Questo video è dedicato a tutti quegli ignoranti che hanno pensato anche solo per un momento che io fossi amico o implicato in questioni leghiste soltanto per aver scritto il testo e cantato il ritornello di una canzone nel 2005, quindi sette anni fa, per un ragazzo che mi sembrava che cantasse bene e che mi aveva chiesto una collaborazione. Tutti quegli ignoranti che hanno scritto cose stupide sulla mia morale e sul mio modo di essere devono andarsene da questa pagina, se ne vadano a sporcare da un'altra parte e tra di loro ci sono anche alcuni giornalisti che veramente fanno più che del giornalismo un tiro al bersaglio che hanno tentato di coinvolgermi in una cosa che non conosco. Io spero tanto che culi nudi vinca il disco d'oro perché così apro un'altra diga in Africa alla faccia di quegli stronzi che non credono nelle cose che faccio. Andatevene da qui perché sennò vi cancello io, ma non fatemi fare tutta sta fatica. Grazie. Fa un culo va.